Pronto, buonasera signore e signori, l'associazione Attendiamoci Ollus vi porge il più caloroso benvenuto al teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. Guardarvi da qui è fantastica, adesso veramente io vi abbandono perché siete in trepida attesa ma uno di quei calorosissimi e li voglio sentire da parte di tutta la platea, dall'assù un grande applauso per il musical Mary Poppins. E ogni popito divien' più semplice e serena, dovrai capir' che il trucco è tutto qui. Facciamo un camion, la sorta è con voi, se la mano mi dà, che un bacio mi dà, felice sarà. Alla prossima Grazie a tutti. Grazie a tutti.